Ok, buongiorno. Oggi cerchiamo di fare due cose. La prima è un piccolo addendum a quello che abbiamo fatto giovedì, che giovedì mi sono dimenticato di fare. La seconda è parlare degli assistenti conversazionali come richiesto, diciamo. E la terza vi lascio invece un po' giocare, diciamo così, con Raspberry in modo che possiate o iniziare a lavorare, a pensare sul progetto o giusto continuare a sperimentare dopo il quarto d'ora che avete fatto due volte fa o la settimana scorsa, comunque. Allora, partiamo dall'addendum della volta scorsa. Allora, io la volta scorsa ho portato i Raspberry e poi non li abbiamo usati e ho anche messo, attaccato la spina a un Raspberry e poi non l'abbiamo usato, perché volevo farvi vedere una cosa. Allora, questo è lo stesso progetto della volta scorsa. Non è stato modificato una riga o un carattere. E voi, due volte fa, avete visto sul Raspberry quanto è rapido, comodo e semplice e con una buona risoluzione utilizzare il Raspberry attaccato a un mouse o a una tastiera. Ora, la maggior parte degli sviluppatori, la maggior parte delle persone che lavorano con un Raspberry, ovviamente non programma sul Raspberry, proprio perché il Raspberry richiede mezz'ora per installare Gradle e poi non c'è neanche l'ultima versione. Di default non ha neanche la Java Virtual Machine Oracle, ha quella della OpenJDK, qui è stata installata dai tecnici, qui dall'università, e quindi richiede un po' di setup. E in più, come avete visto, non è che abbia una risoluzione pazzesca e sia comodo, comodissimo da usare. Allora, quello che si fa, quello che esiste, in genere è si programma su un computer e poi si fa il deploy sul Raspberry. Allora, ovviamente il modo manuale di fare questo è programmare sul computer e poi fare il jar e spostarlo a mano sul Raspberry con il rischio che magari alcune cose non funzionino e se ci sono dei componenti nativi, quindi non siano compilati correttamente per ARM, ma siano compilati per Intel o per AMD, insomma per processori x86, e quindi ci sono un po' di problemi, ci possono essere un po' di problemi. Allora, quello che fortunatamente qualcuno si è inventato sono dei plug-in, degli strumenti, che vi permettono di scrivere codice sul vostro computer e direttamente dall'ambiente di sviluppo eseguirlo in remoto, diciamo, sul Raspberry. Eseguirlo in remoto vuol dire che è l'ambiente di sviluppo che copia in automatico i file sul computer di destinazione, in questo caso il Raspberry, li compila là e li esegue là, ma voi potete anche fare debug dal vostro ambiente di sviluppo direttamente sul Raspberry, senza dover attaccare il Raspberry a un monitor, a una tastiera, ma vedendo tutto direttamente nell'ambiente di sviluppo. Allora, per Java IntelliJ ha un plug-in che vi ho linkato anche su DIR dalla settimana scorsa, questo plug-in IntelliJ per esecuzione e deploy sul Raspberry, e volevo solo provare con voi che funzionasse e farvi vedere come si usa. Allora, questo è il progetto dell'altra volta, quindi non ha ovviamente dipendenze native, e però usa Gradle e quant'altro. Io qui ho uno dei Raspberry che probabilmente ha usato anche un gruppo, dove c'è Java, non ho idea se ci sia Gradle, ma non mi interessa in realtà, perché la parte di scaricamento delle librerie viene fatta sul mio computer. E allora, quando voi state realizzando un programma, se volete provarlo sul Raspberry attraverso questo plug-in, quello che dovete fare è andare tra le configurazioni di lancio di IntelliJ, dove c'è la configurazione genere di run del singolo programma, e aggiungerne una. Una volta che avete installato i pre-green, voi vedete una configurazione che si chiama Embedded Linux, J-U-M, che se selezionata vi chiede un po' di parametri, che si ricorda perché ho provato prima. Vi chiede l'indirizzo IP del Raspberry, in questo caso è l'indirizzo IP di quel Raspberry che ho collegato sul tavolo, una porta di debug, che è precompilata a 1, 2, 3, 4, va bene, non c'è problema, un username e password, perché lui si collega via SSH con il Raspberry, quindi ovviamente il Raspberry deve poter accettare connessione SSH, e la rete utilizzata deve ovviamente permetterne. Nel nostro caso, i Raspberry sono stati sistemati in modo che una connessione SSH funzioni, dalla rete un IPMN Wi-Fi, quindi da questi computer fissi dovrebbe funzionare, se usate i vostri portatili funziona dalla rete un IPMN, non dai do ROM. Poi vuole il nome utente la password del Raspberry, quella che avete già inserito due volte va, fa la porta SSH che è di default la 22, in questo caso è ancora la 22, e poi voi potete premere Validate Connection, e vi dice Connection Success, in questo caso, perché riesce a collegarsi effettivamente al Raspberry, poi vi chiede quale modulo del progetto volete utilizzare, nel caso in cui ci siano più moduli, in questo caso noi selezioniamo Spark REST MAIN, che è appunto il modulo che contiene i sorgenti e il MAIN, e poi vi chiede qual è la classe che contiene il MAIN, in questo caso ce n'è una sola e quindi è da selezionare quella. Una volta date queste impostazioni, queste impostazioni vengono salvate, quindi non è necessario tutte le volte cambiarle, e voi potete dare un nome a questa configurazione, e poi premendo Run, lui quello che fa apre una connessione SSH verso il Raspberry, fa il deploy sul target, e vi mette il progetto nella home dell'utente, in una cartella IDEA PROJECTS, il nome del progetto, Spark REST in questo caso. Quindi se non c'è quella cartella la crea, e se c'è la suota, in questo caso c'era, la suotava, e poi vedete che fa l'upload, in questo caso è stato istantaneo, perché era già stato eseguito prima, quindi si era tenuto una copia in cache, della versione da caricare, alla prima esecuzione si è visto 0, 1, 2, 3, un po' più lentamente, poi se tutto va bene, finisce il deploy, e da questo momento, vi dice che voi state facendo il build, su Linux, sul sistema embedded, quindi sul Raspberry, e infatti vedete che usa java-cp direttamente sul Raspberry per compilare le classi che gli sono state passate, e vi dà eventuali errori o warning, in questo caso il timestamp di quel Raspberry è ovviamente nel futuro rispetto al mio computer, e quindi ve lo dice, che è un po' nel futuro, e di qualche secondo, poi compila tutto, e a un certo punto fa partire il server, quindi a questo punto il server non sta girando sul mio computer, ma sta girando sul Raspberry, e quindi voi collegandovi all'indirizzo del Raspberry, vedete il server che l'altra volta abbiamo realizzato, Allo stesso modo potete andare in debug, ammesso che la porta 1, 2, 3, 4, sia raggiungibile della rete Wi-Fi, e potete vedere se ci sono eventuali problemi con il vostro codice, facendolo girare, e tutte le sue dipendenze, facendolo girare direttamente sul Raspberry. Questo era l'addendum dell'altra volta. Poi stoppate il programma, stoppate il programma come se girasse dentro IntelliJ nel vostro computer, e lui viene stoppato anche sul, viene stoppato in realtà sul Raspberry, e non sul vostro computer. Quindi voi fate tutto come il solito, tranne il lancio di questa configuration, che vi permette di lanciare il programma Java sul Raspberry, invece che sul vostro computer. Questo è ovviamente una cosa un po' più comoda, rispetto a copiare file, o spostare file a mano avanti e indietro, e sperare che funzionino. Detto questo, detto questo, torniamo al nostro, un attimo al nostro disegno di architettura, che abbiamo visto, che abbiamo ripreso l'altra volta. C'è qualche problema? Sì, no? Ritorniamo al disegno di architettura, che abbiamo visto l'altra volta. E l'altra volta abbiamo visto Spark, che quindi si può collocare sia nell'home station, sia in questo server HTTP, che è qui raffigurato nel cloud. Spark parlava con un DB, quindi quello rappresentato nel cloud può essere una versione estesa di quello che abbiamo iniziato la volta scorsa. Oggi è giovedì, parleremo degli assistenti conversazionali, che ovviamente sono ancora cose che possono girare nell'home station, quindi non software che può girare nel vostro cloud. La settimana prossima vedremo MQTT e abbiamo così completato le tecnologie base di questa architettura, proprio perché la parte in alto abbiamo detto che non ci interessa. esiste per completezza, ma non ci interessa. Allora, faremo due lezioni sugli assistenti conversazionali, una oggi, che sarà più di introduzione e configurazione, e una, la giovedì, che sarà invece di utilizzo, di personalizzazione di alcuni aspetti in Java. Allora, beh, che cos'è un agente conversazionale? Che cos'è un'interfaccia conversazionale? Visto che vi piace parlare tra di voi, parlate con me. Che cos'è un'interfaccia conversazionale? Sì, no, no, capito. Quelli sono... Ripeti perché non si è sentito. Sì, un qualcosa di un po' più specifico, perché questo vale per... Sono passati da Siri, è un qualcosa con cui relazionarsi. Una sfumatura in mezzo? Un sistema che vuole capire di quello che diciamo e agire femminile dalla nostra voce la elabora e ci può rispondere con un'altra situazione. Ok, è un sistema che... Lo riformulo. È un sistema che prende in input il nostro linguaggio naturale, che sia voce, sia testo, è un dettaglio in questo momento, e lo capisce, diciamo così, e ci risponde in maniera sensata. Questo è un pezzo. È un pezzo ovviamente importante, ma è un pezzo. La parola conversazionale può essere più risposta. Esatto. Può creare una conversazione. Quindi non solo io chiedo una cosa e mi viene data una risposta e poi chiedo una cosa completamente diversa e mi viene data una risposta appropriata, ma che non c'entra niente con la domanda precedente. Ma è una cosa che può mantenere una sorta di contesto del... tra queste diverse... tra queste diverse parti, tra queste diverse domande e quindi creare una conversazione. Allora, al momento di assistenti conversazionali, di interfacce conversazionali, abbiamo, diciamo, due grandi famiglie. La prima è quella di Siri & Co. Quindi quello che io l'ho chiamato assistenti vocali. Quindi Siri, Cortana di Microsoft, Alexa di Amazon, Google Assistant di Google e così via. Quindi prodotti. E dall'altra parte ho chiamato... ho tutti quelli che io in questo momento ho chiamato chatbot. Quindi versioni ad hoc che permettono di costruire, di parlare attraverso conversazioni. Il goal ultimo di questi, di tutte queste interfacce conversazionali è quello di facilitare l'interazione tra la persona e un sistema informatico in maniera, appunto, in modo che questa interazione sia semplice, sia immediata, non richiede di imparare a utilizzare un'interfaccia grafica, non richiede di scoprire dov'è il bottone che mi abilita a quella funzione, ma nel goal ultimo, nel goal finale giusto parlare e ottenere una risposta in cambio che sia appropriata. Ovviamente non sono la soluzione a ogni problema, ma sono un tool che funziona sufficientemente in questo momento. Diciamo così. Allora, come si crea un'interfaccia conversazionale? Generalmente si usano piattaforme cloud preesistenti che sono orientate agli sviluppatori principalmente in modo da poter poi integrare queste conversazioni in applicazioni mobile, applicazioni web, bot di telegram e così via. Tutte queste, buona parte di queste piattaforme cloud si focalizzano sulla semplicità da una parte e sulla strazione di alcuni concetti dall'altra. Quindi, nonostante loro facciano natural language processing, quindi cercano di capire che cosa state dicendo nelle varie lingue, quindi conoscano la grammatica, la sintassi e così via, tutti questi tool non richiedono ovviamente una conoscenza approfondita e in alcuni casi una conoscenza proprio, di come funzioni un sistema di processamento del linguaggio naturale. In questo senso si focalizzano sulla semplicità e sulla strazione. Principalmente queste piattaforme sono cloud. Esistono anche versioni di questi strumenti che si scaricano e si installano sul proprio computer e spesso agiscono come server. Quindi la versione locale di questi strumenti per il processamento del linguaggio naturale che creino anche conversazioni perché non sono la stessa cosa. Voi potete processare il linguaggio naturale e quindi vi dà che una certa parola è un soggetto, un'altra parola è un verbo e vi dà dei sinonimi per quella parola e così via. Punto. Un'altra cosa è tutta la gestione della conversazione quindi mantenere il contesto sapere che cosa deve venire prima un certo pezzo di conversazione se una domanda è lecita a un certo punto della conversazione oppure no e così via. Come gestire eventuali frasi che non è capace a gestire la piattaforma quindi se voi state parlando del meteo e poi gli dite chi ha vinto lo scudetto quest'anno lui vi risponderà non lo so perché io sto parlando sono fatto per parlare del meteo mi aggiungi tutta la conoscenza sul calcio e magari saprò anche rispondere a questa quindi anche gestire gli argomenti di cui non sa parlare perché queste interfacce quelle che costruiremo noi sono le costruiremo per uno specifico scopo che sappiano parlare del meteo o del meteo e di qualcos'altro non general purpose non di tutto quello che vi possa venire in mente un po' perché se no finite questo corso nel 2030 un po' perché effettivamente non è veramente possibile di queste piattaforme conversazionali ci sono di nuovo tre tipi tre famiglie la prima sono estensioni di un prodotto quindi voi avete in casa l'Amazon ICO voi avete in casa Google Home quindi il device fisico voi avete uno smartphone Android con Google Assistant e volete fare un'estensione di quella quindi sfruttate tutto quello che Alexa e Google Assistant sa già fare e aggiungete la vostra parte specifica questo si chiamano skill in Amazon ICO e si chiamano estensioni una volta si chiamavano actions on Google adesso credo si chiamino solo estensioni per Google Assistant quindi aggiungete alle tante cose che sa già fare sa già trattare Assistant e Alexa quello che vi serva a voi quello che lui non è capace a fare e questo è la prima diciamo categoria è il primo tipo la seconda categoria sono invece servizi indipendenti da eventuali prodotti esistenti magari compatibili con ma indipendenti quindi una serie di piattaforme una serie di servizi per creare vari tipi di interfacce conversazionali e lì ho scritto alcuni esempi Dialogflow è una piattaforma di Google WIT punto AI è una piattaforma di Facebook Recast invece è una piattaforma di una start-up francese quindi varie piattaforme indipendenti che vi permettono di creare conversazioni ed integrarle nei vostri software questi sono compatibili molte volte con i prodotti di qui sopra quindi per esempio come immaginerete un'interfaccia conversazionale creata con Dialogflow può essere esportata nel formato compatibile con Google Assistant perché sono tutti di Google sarebbe stato quasi ridicolo se non l'avessero fatto ma in realtà per esempio Dialogflow può anche generare gli skill per Alexa può anche generare un bot in automatico molto semplice per Telegram può anche generare se non l'hanno rimosso un'estensione di Cortana quindi sono piattaforme indipendenti che però in alcun in un certo modo generano delle estensioni per i prodotti di qui sopra oppure possono essere utilizzati in maniera indipendente però a differenza di quelli sopra loro di default non sanno fare niente non sanno parlare di nessun argomento non si appoggiano a un qualcosa già addestrato quindi se per esempio Alexa o Google Assistant sa già parlare del meteo voi potete chiedergli che tempo farò oggi a Vercelli con questi servizi stand alone voi non avete capability non avete conoscenza pregressa se non quella che gli inserite voi e infine ci sono dei servizi che sono sempre stand alone come quelli della categoria 2 ma non sono a parte ma fanno parte di una famiglia di servizi cloud quindi per esempio IBM ha nella sua suite Watson una parte che si occupa del processamento del linguaggio naturale una parte che si occupa dello speech to text una parte che si occupa del text to speech una parte che si occupa della parte conversazionale e quindi voi potete mettendo insieme questi quattro servizi diversi di IBM ottenere un assistente conversazionale un'interfaccia conversazionale che parta dalla voce riconosca quello che avete detto mantenga una conversazione e vi risponda vocalmente Microsoft ha l'equivalente nella sua piattaforma cloud in particolare a Lewis che serve per queste interfacce conversazionali noi ci concentreremo sulle seconde un po' perché non abbiamo e non voglio dipendere da un prodotto esistente che varia nel tempo come Alexa o come Google Assistant un po' perché nella terza categoria bisogna accedere all'intera suite cloud che tipicamente è a pagamento mentre molti dei servizi stand alone sono gratuiti e in più sono compatibili con i prodotti di qui sopra quindi ci permettono anche di utilizzare il tutto in maniera agevole e in particolare io ve ne racconto brevemente due e poi ne useremo uno ovviamente che è quello che funziona discretamente bene il primo che vi racconto è WIT WIT ha come slogan natural language for developers ha ovviamente un sito è nato nel 2013 e poi è stato acquisito da facebook nel 2015 è gratis supporta vari linguaggi ha tre sdk uno in Node.js uno in python e uno in ruby e nell'ultima versione l'anno scorso fino all'anno scorso permetteva di gestire delle conversazioni direttamente nella piattaforma adesso invece è molto molto focalizzato al natural language processing e la parte di gestione della conversazione è tutta delegata allo sviluppatore nel suo codice quindi è lo sviluppatore che deve tenere traccia nel codice di quale frase può venire prima o dopo un'altra quale risposta è accettata quale risposta ha senso dare o non ha senso dare lui fa solo la parte di natural language processing fino all'anno scorso faceva anche la parte di cloud di conversazione poi hanno deciso di toglierla ed è sempre più integrato in facebook messenger con facebook messenger e noi non lo useremo giusto per essere chiari quello che invece useremo noi è dialog flow che è più o meno ha più o meno l'età di wit era una start up fondata nel 2010 e poi nel 2016 acquisita da google fino all'anno scorso si chiamava api.ai qualche mese fa l'hanno ribrandizzato in dialog flow ma se voi cercate su internet api.ai o dialog flow in questo momento sono da considerare sinonimi e anche questo è gratuito per l'utilizzo ha un'integrazione one click con diversi servizi tra cui telegram quindi una volta che avete inserito creato la vostra conversazione con un click e un codice che vi da telegram potete creare un bot senza scrivere una riga di codice di programmazione con messenger con cortana con google assistant eccetera supporta molteplici linguaggi molti di più di quelli che supporta wit tra cui l'italiano e ha vari sdk e soprattutto per la versione 1 dell'api che è quella che google sta deprecando ma che sarà attiva fino a maggio del 2019 e che è quella che useremo noi in realtà perché la versione 2 dell'api è uscito dalla beta la settimana scorsa e non ha ancora gli sdk completi molti link nella documentazione di dialog flow per la versione 2 non funzionano perché stanno spostando ancora le cose e quindi noi per ora stiamo sulla versione 1 tra cui sia nella versione 1 che nella versione 2 hanno un sdk in java che quindi è quello che a noi può andar bene prima di vedere queste piattaforme come funzionano questa piattaforma come funziona ma in realtà è molto simile come concetti anche alle altre vi devo dare due definizioni una è la definizione di intent e l'altra la definizione di entità o entities questi sono due termini che con lievissime modifiche sono utilizzate da tutte queste piattaforme anche da quelle parti di un servizio Watson usa per esempio IBM usa gli stessi termini per esempio allora un intent la definizione ufficiale rappresenta un mapping tra quello che l'utente dice e l'azione che deve essere fatta dall'applicazione e tipicamente un intent è composto da quello che la persona dice quindi l'input che voi gli date e un'eventuale azione che deve essere condotta e una risposta quindi quello che l'utente dice e la risposta sono risposte sono frasi in linguaggio naturale l'azione può essere un'azione che viene poi eseguita sul serio un intent è una porzione di una conversazione che ha una domanda quello che l'utente dice e una risposta è solo una porzione quindi per esempio un intent può essere qual è il meteo a Vercelli a Vercelli sembra settembre quello è un intent crea un task per la to-do list e un intent cancella un task per la to-do list e un altro intent anche se stiamo sempre parlando di una to-do list l'intent è il concetto base di tutte queste piattaforme voi andate a creare soprattutto intent e poi a collegarli tra di loro eventualmente le entità invece rappresentano dei concetti servono per estrarre parametri dalle frasi di linguaggio naturale e sono esiste nelle piattaforme esistono entities predefinite ma si possono creare nuove entità e cosa servono le entiti le entiti servono per far sì che voi possiate addestrare uno di queste piattaforme con la frase qual è il meteo a Vercelli e con la frase che tempo fa a Vercelli e poi chiedergli qual è il meteo a Torino perché perché Vercelli viene mappata come una entiti città che contiene al suo interno tutte le città del mondo quindi una sorta di variabile che può essere sostituita in un certo senso al runtime quindi voi gli insegnate che che tempo fa a Vercelli dove Vercelli è una di qualunque città del mondo e poi lui è capace a gestire tutte le frasi che iniziano con che tempo fa a città quindi che tempo fa a Vercelli che tempo fa a Milano che tempo fa a New York sono tutte frasi accettate e appartenenti a quello specifico intent perché hanno tutte sono tutte composte nello stesso modo e hanno tutte le entiti città allo stesso modo accendi la lampadina di rosso se voi marcate rosso come colore lì a quel punto una qualunque frase che al suo interno ha un colore in quella posizione viene riconosciuta come facente parte di quell'intent allo stesso modo potete creare voi dei vostri intent immaginiamo che non ci sia un intent che voi vogliate fare un assistente un'interfaccia conversazionale su gli album degli ultimi dieci anni di un certo cantante allora voi potete mettere un potete creare un intent album e inserire all'interno di questo intent la lista degli album di questo cantante e poi avere un intent che parla solo degli album di questo specifico cantante e quello che faremo adesso è provare a costruire uno di questi interfacce addestrare una di queste interfacce e in particolare per fare un esempio parleremo del meteo e quindi gli chiederemo il meteo in una città quello tipo l'esempio che vi ho fatto a voce quindi qual è che tempo fa Vercelli che tempo fa città qualunque e in più e lo faremo con dialogue flow e in più la gente la gente conversazionale dovrà anche essere capace di rispondere correttamente a ciao buongiorno e quant'altro e inoltre deve anche essere in grado di rispondere correttamente a frasi che non conosce quindi noi lo faremo sul meteo e se poi gli chiediamo di nuovo per esempio chi ha vinto lo scudetto quest'anno lui ci dirà non lo so potresti richiedere a questo indirizzo c'è anche una semplice applicazione html che usa un po' di tecnologie web che è anche pubblicata come sito questa funziona completamente parzialmente su chrome parzialmente su safari parzialmente su firefox non idea se funzioni su edge o internet explorer non chiedete allora questa è un'applicazione demo che utilizza un agente simile a quello che costruiremo quindi se io qui scrivo ciao è impostato sull'inglese se io qui sotto in questa barra scrivo ciao se io in questa barra sotto scrivo ciao e premo invio mi compare un tooltip in alto con scritto ciao e questa risposta good day è la risposta che mi arriva dalla gente da dialogflow e quello è il json quello è il json corrispondente che arriva da dialogflow che contiene la risposta good day questo vedete è testuale ha un simbolo del microfono in questo angolo perché se voi premete quel microfono potete anche parlare e lui trascrive quello che avete detto e in realtà non lo sentite perché io ho attaccato questa roba al mio computer ma tutte le risposte sono anche parlate quindi se io stacco il microfono e eseguiamo questa cosa good day viene parlato viene eseguito dalle casse del computer la parte di speech to text e la parte di text to speech non fanno parte di dialogflow ma fanno parte di un'api sperimentale di html5 che sono le web speech api e per quello funziona completamente su chrome perché sono sperimentali e chrome è l'unico browser che le ha implementate del tutto sia la parte di speech to text che la parte di text to speech e quindi se noi gli chiediamo qual è il meteo a Vercelli non riconosce Vercelli se voi gli chiedete una città che in questo momento riconosce non mi ricordo come l'ho addestrato magari non gli ho detto che Vercelli è una città per esempio se voi gli chiedete qual è il meteo a Milano lo vi dirà che piove queste risposte sono totalmente a caso in questo momento e come vedete se per caso non riconosce una città non riconosce un elemento che è obbligatorio in questo caso la città perché non possiamo sapere il meteo senza mettere una città vi chiede dove o in quale città comunque questo è un esempio c'è anche il codice su GitHub adesso noi proveremo a costruire la gente che ne sta dietro prima di costruirlo però vi dico due parole su una cosa che ci servirà a giovedì che è il modo di tutte queste piattaforme per interagire con un software creato appositamente quindi per esempio con un con un vostro programma tutte queste piattaforme per interagire con dei servizi costruiti ad hoc utilizzano un meccanismo che si chiama webhook che è un nome strano per dire che quando hanno bisogno di dati che arrivino o da inviare o da inviare a un servizio esterno come può essere un vostro server per esempio mandano una post HTTP con un certo corpo a questo servizio esterno quindi nell'esempio di prima io vi ho detto che il meteo la risposta sul meteo era totalmente a caso se voi per esempio voleste agganciarla a un servizio vero che dà il meteo per una certa città in un certo giorno potreste utilizzare un webhook quindi dire alla piattaforma la risposta tu non la sai perché ovviamente il meteo è una cosa che cambia non è una cosa statica devi chiederla a questi indirizzi IP questi indirizzi IP avrà un server e dovrà accettare una post di un certo tipo di messaggio JSON che la piattaforma manda quindi quello che faremo noi giovedì è costruire sempre con Spark un server web come abbiamo fatto l'altra volta che a questo punto non sarà a REST o non necessariamente ma che ha un indirizzo specifico e solo a uno risponderà a una post accettando come corpo della post il formato richiesto da Dialogflow e rispondendo con un JSON nel formato richiesto da Dialogflow perché quello che succede è che in generale la persona scrive o parla alla piattaforma Dialogflow come stavamo facendo col meteo la piattaforma se non sa rispondere manda un webbook manda una richiesta al servizio HTTP collegato questo servizio processa la risposta e manda indietro la risposta testuale quindi il risultato della della domanda qual è il meteo a Vercelli qual è il meteo a Milano questa risposta ritorna sulla piattaforma che la manda indietro sui canali che ha a sua disposizione quindi se questo è un bot di Telegram lo manda indietro tramite Telegram se questa è un'estensione di Google Assistant la manda indietro tramite Google Assistant se questo è un client JavaScript come quello che abbiamo visto lo manda indietro lì quindi lo manda nello stesso posto da cui è ricevuto la risposta la domanda solo che il processamento della risposta la risposta non la crea lui ma la chiede a qualcun altro e questo qualcun altro giovedì saremo noi ovviamente non lo faremo sul meteo perché non siamo un servizio meteo ma potremmo scrivere un server che chieda a sua volta a Yahoo Weather o a un servizio meteo cloud che abbia delle API il meteo di una città prendere la risposta parsificarla e inoltrarla indietro a Dialogflow e poi in fondo le slide ci sono un po' di link quello che faremo adesso è appunto provare a creare uno di questi agenti così vediamo come come si fa e allora il punto d'accesso è il sito Dialogflow.com e per accedere dovete andare a questo link che è Vai alla console se voi premete Vai alla console vi chiede di fare il login con Google essendo un servizio di Google in precedenza era anche possibile registrarsi che è quella parte di là però se voi non l'avete mai usato siete obbligati a fare il login con Google così come quello di Facebook siete obbligati a fare il login con Facebook se avete più di un profilo Google di un account Google vi chiederà quale utilizzare qui in alto c'è il messaggio che dice che la migrazione alla versione 2 dell'API è completa bisognerebbe utilizzare la versione 2 e che la versione 1 dell'API smetterà di funzionare a maggio 2019 io ho ovviamente già degli agenti creati quindi quindi ne creeremo uno nuovo allora quando si crea un nuovo agente vi chiede un po' di informazioni del tipo il nome dell'agente e può essere un nome a caso perché è un nome che sta sulla piattaforma quindi noi chiamiamolo Meteo vi chiede il linguaggio principale dell'agente tra tutti i linguaggi che supporta da qualche mese a questa parte permette anche di poi definire linguaggi secondari in modo di avere un agente che sia multilingue noi per esempio selezioniamo l'italiano vi chiede il il fuso orario in cui siete per gestire correttamente tutte le date se voi gli dite domani crea un appuntamento domani sul calendario questo domani diventa 16 maggio 2018 se siamo qui se siete in un 12 ore con un fuso o meno 12 ovviamente magari sarà ancora il 15 in certi momenti del giorno quindi vi chiede se volete collegarlo a un progetto google esistente se non lo collegate esplicitamente lui ne crea uno e basta quindi voi potete premere crea lui vi dice working e a un certo punto vi dice fatto e vi apre direttamente l'intento l'agente che avete creato l'agente che avete creato qui sotto sotto il nome mostra i t che è la lingua primaria dell'agente e attraverso il più potete aggiungere altre lingue l'agente ha delle impostazioni tra cui per esempio di nuovo il fuso orario che avete scelto prima una descrizione se volete appunto descrivere che cosa fa il vostro agente eventuali dettagli sul progetto google che è stato creato per il vostro agente e che è collegato al vostro agente in questo momento quale versione dell'API volete utilizzare per oggi non ci interessa selezionarne una piuttosto che l'altra perché tanto non lo useremo ma selezioniamo la versione 1 perché giovedì ci servirà la versione 1 e eventuali chiavi d'accesso il client access token e il developer access token uno il secondo è privato e il primo è pubblico invece e quindi non andrebbero proiettati né messi su youtube ma questo è un altro problema e il client access token è pubblico per esempio nel nel progetto javascript che abbiamo visto prima al suo interno se guardate il codice c'è il client access token il token di autorizzazione a utilizzare quell'API e quello specifico agente poi ci sono varie impostazioni di log e la possibilità di cancellarlo di impostare di nuovo alcuni linguaggi di impostare alcuni parametri che lui chiama machine learning settings della parte di processamento di linguaggio naturale e la possibilità di importare ed esportare l'agente come zip quindi voi potete creare un agente esportarlo e passarlo a me per la valutazione per esempio o a un'altra persona in modo che lo carichi sulla sua istanza sulla sua parte loggata di dialog flow e lo possa utilizzare modificare e quant'altro e poi c'è un bottone salva che salva dopodiché nel menu a lato vedete questi intent di cui abbiamo parlato prima le entità subito sotto che sono quelle di prima questo fulfillment che è il modo con cui si imposta il webbook per agganciarlo ad altre piattaforme e eventuali integrazioni quelle one click integration che dicevo prima per parlare per collegarlo a telegram per fare un per utilizzare google assistant per agganciarlo a twitter quindi per fare un bot di twitter un bot di skype un bot di telegram eccetera ne supporta un po' e questi quasi tutti sono one click per esempio quello di telegram vi chiede solo il token se voi create un bot in telegram oltre al nome del bot e al username del bot vi viene dato un token che è quello che vi serve per implementare la logica in genere via software del bot qui la logica via software non la implementate se utilizzate direttamente la piattaforma mettete qui un token e lui si preoccupa di intercettare tutte le richieste e le risposte che arrivano da qualunque utente che parli attraverso telegram col vostro bot e questo appunto è un click perché basta mettere il token di restart ed è finito lì e si occupa tutto lui le entiti sono vuote questo è uno spazio per le entiti personalizzate quello che create voi come dicevo la piattaforma ha delle system entities ha delle entità già preesistenti come per esempio i numeri le città le date e quant'altro e giusto per una volta c'era una tabella con tutte le entiti adesso hanno deciso di no vabbè e poi allora nel fulfillment lo vedremo la prossima volta voi potete abilitare il webbook e mettendo abilita vi chiede l'url a cui fare quella post eventuali header aggiuntivi eventuale autenticazione di base che il server che riceve la post può avere nel nostro caso non ne avrà e se il webbook è attivo o no per tutti i domini per tutti gli agenti per tutti gli intent e da notare e poi la soluzione ve la racconto giovedì che il webbook richiede un indirizzo ip pubblico su https se no non funziona quindi pubblico è ragionevole se no non potrebbe raggiungerlo e su https è un constraint in più ma giovedì vedremo il trucchetto per risolverlo e poi qui sotto poi in realtà c'è una nuova funzionalità che hanno aggiunto questo inline editor che volendo vi permette qui sotto c'è questo codice abbozzato vi permette di scrivere un webbook in javascript ospitato su firebase che è un altro servizio google e quindi creare direttamente online un webbook diciamo in javascript è relativamente semplice e poi ci sono gli intent ah no prima degli intent e qui sotto ci sono un po' di analitici storia e quant'altro e ci sono anche agenti pre costruiti quindi per esempio c'è un agente che si chiama meteo che ha già una serie di domande quello che l'utente dice relativa al meteo e ce n'erano molti di più una volta e va beh c'è per esempio small talk small talk ha all'interno una serie di intent che servono per fare piccole conversazioni quindi ciao come stai tutto bene tutte queste cose qua cosa hai visto ieri cosa c'era in televisione tutte le conversazioni poco impegnative diciamo e anche qui ha già una serie di intent addestrati con le frasi che l'utente potrebbe dire poi c'è un link alla documentazione al forum al supporto gli intent quando voi create un agente trovate due intent di default uno si chiama fallback intent e l'altro si chiama welcome allora il welcome intent se voi cliccate sul nome di un intent lui si apre e vi da i dettagli il welcome intent è un intent che come dice il suo nome serve per gestire tutto il benvenuto ciao come va eccetera buongiorno e infatti potete vedere qui che nelle sue risposte nelle risposte che questo intent fornisce c'è ce ne sono due che sono ciao e buongiorno potete aggiungerne se volete e sono le risposte la gente va a pescare una di queste risposte quando trova ciao risponderà a caso o con ciao o con buongiorno se qui gliene fornite 10 varianti lui risponderà con una di quelle 10 varianti l'altro intent è l'intent di fallback che non ha di default inseriti delle frasi che l'utente dice e ha delle risposte invece di default come per esempio non penso di seguirti potresti ripetere non ho capito potresti dirlo ancora una volta eccetera ed è l'intent che viene automaticamente chiamato tutte le volte che l'utente manda una richiesta una frase che non viene collegata a nessun intent esistente quindi se noi l'addestriamo per parlare del meteo e poi come dicevo prima gli chiediamo di calcio lui ci risponde con questo intent perché riconosce che la domanda sul calcio non ha niente a che fare col meteo e quindi ci risponde con l'intent di default di fallback se noi l'addestrassimo anche per parlare sul calcio allora non verrebbe chiamato questo ma verrebbe chiamato l'altro questi sono attivi questo bottone qua serve per attivarlo o disattivarlo a questo punto creamone uno noi allora l'intent ha vari parti vabbè un nome e chiamiamolo chiedi meteo perché è l'intent che parla solo del chiedere il meteo qual è il meteo a e la risposta sarà quella quindi solo quella coppia domanda risposta dopodiché ci sono un po' di sezioni non sono tutte ovviamente obbligatorie da riempire da riempire la prima si chiama context i context immaginatele come sorta di variabili globali che potete passare da un intent all'altro quindi per esempio se noi facessimo un meteo un meteo una serie di intent un intent che chiede come ti chiami e la risposta è il vostro nome e voi volete utilizzare quel nome nell'intest successivo per chiedere per dire non so per fargli dire ciao Luigi cosa vuoi chiedermi quindi portare avanti il nome su vari intent potete usare il contesto inserire nel contesto questa variabile che è la risposta a un intent precedente per esempio quindi nel contesto voi potete vabbè per esempio lo si vede da un esempio scritto adesso è tutto vuoto esportare delle variabili pubblicare delle variabili la variabile nome della risposta e importare in un altro intent la variabile nome esportata da un intent precedente è un modo di collegare degli intent dopodiché c'è per il meteo ovviamente non lo usiamo c'è una parte che si chiama eventi perché? perché un intent è sempre queste agenti sono sempre sempre scatenati da un input che arriva dall'esterno non possono loro iniziare una conversazione deve esserci qualcosa che gliela fa iniziare allora questo qualcosa tipicamente è una frase di una persona che scrive qualcosa ma ci possono essere momenti in cui vogliamo che invece si reagisca sulla base di altri eventi e quindi è possibile in events definire quali sono questi eventi per esempio nell'intent di welcome voi vedete che negli events c'è welcome che è un tag che per esempio se voi create un bot di telegram è mappato sullo start presente dentro l'applicazione di telegram quindi quando voi aprite un bot per la prima volta lui chiama quell'evento telegram chiama quell'evento e quindi la prima cosa che vedete come risposta da questa da questa piattaforma è ciao anche se voi non avete scritto niente solo per aver aperto e iniziato e premuto il bottone inizia della conversazione con un bot quindi un evento è un modo per scatenare questi questi intent senza dover scrivere del testo da un punto di vista del software è equivalente a mettere a inviare una frase testuale ovviamente solo che può essere molto più breve molto più conciso dopodiché ci sono le frasi di training cioè quello che l'utente dice e noi andremo a mettere come dicevo prima qual è il meteo a città notate che più frasi di training mettete più ovviamente la gente è capace a distinguere variazioni delle vostre domande quindi se voi inserite solo qual è il meteo a Vercelli probabilmente sarà capace a riconoscere solo la frase qual è il meteo a città se voi invece l'addestrate con ci sarà il sole a città pioverà oggi a città farà bello oggi a voi ovviamente potete poi sfruttare anche senza inserirle lì nelle frasi di training combinazioni di queste frasi e lui riesce comunque a riconoscere l'intent corretto poi ci sono azioni e parametri quindi data quelle frasi o quegli eventi di ingresso ci posso collegare o delle azioni che saranno utili per un software o dei parametri quindi per esempio gli diremo che città è un parametro ed è un parametro obbligatorio e poi ci sono le risposte quelle risposte testuali standard fisse che abbiamo visto prima e la parte fulfillment che ci permette di dire per questo intent non dare la risposta di default le risposte statiche ma gancia un webhook e quindi la risposta prendila da là allora iniziamo dalle frasi di training quando voi premete aggiungi frase vi compare questa sezione con scritto add user expression e qui voi dovete giusto inserire una domanda quindi qual è il meteo a Vercelli punto di domanda e premere invio allora lui in automatico riconosce e lo evidenzia in giallo riconosce che Vercelli fa parte di una entity che si chiama sys punto geocity dove sys sta per sistema quindi le entiti di default le entiti di sistema e geocity è una città questo entity è un parametro è un parametro che di default lui chiama geocity e in questo esempio ha un valore che è Vercelli se voi cliccate su la entity potete dirgli guarda che è sbagliato non è una città Vercelli è qualcos'altro e andare o a creare un intent o a selezionare uno degli intent già creati e tra gli intent già creati c'è per esempio l'età la mail un periodo di date una durata un indirizzo una via il nome di una via il nome di un corso e così via artisti musicali percentuali numeri url eccetera 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 currency quindi euro dollaro dollaro canadese e quant'altro a questo punto è bene sempre mettere più di una frase di training loro non raccomandano un numero minimo di frasi altre piattaforme tipo Watson IBM ne raccomanda almeno 5 quindi cerchiamo di stare più o meno su quel numero è ragionevole perché una volta che noi creiamo l'intent partirà quella parte di machine learning di cui c'era l'impostazione prima e cercherà di costruire un modello partendo dalle nostre 5 frasi e dalle sue conoscenze della lingua italiana e quindi potremmo chiedere ci sarà il sole oggi a cambiamo città per dare un altro esempio a Milano punto di domanda allora vedete che lui questa volta in automatico ha riconosciuto sì Milano come città ma anche riconosciuto oggi come date a noi questo non è che serva tantissimo perché non vogliamo in questo momento chiedere il meteo oggi o il meteo domani però non ci disturba neanche tanto perché questo vuol dire che non solo potremmo scrivere ci sarà il sole oggi a qualunque città che ci venga in mente ma potremmo anche scrivere ci sarà il sole qualunque giorno che ci venga in mente a qualunque città che ci venga in mente quindi con una sola frase abbiamo generato tantissime alternative di input quindi non ci disturba se non proprio non lo volessimo potremmo comunque cancellare quella notazione e quindi oggi verrebbe trattato come sole sì la proviamo ma la la mia perché non è proprio una diciamo una scienza esatta la dalla mia esperienza verrebbe riconosciuto correttamente l'intent non sono sicuro che verrebbe riconosciuto la data quindi beccherebbe lo stesso che stiamo parlando del meteo perché c'è la città e c'è comunque un pezzo di frase che è uguale a una delle frasi e quel domani non è detto che venga poi mappata su questo meteo se vogliamo se vogliamo essere sicuri di intercettare di intercettare quelle domande ma non lo facciamo proprio per vedere il tuo caso e potremmo mettere una frase qual è il meteo domani a Torino in questo modo abbiamo anche esplicitamente messo l'alternativa all'altra frase notate che sole sarà e quant'altro non sono taggate come entity quindi non è necessario dire che sarà è un verbo al futuro per esempio non c'è una entity di questo tipo lui ovviamente nella parte di riconoscimento del linguaggio riconoscerà che quello è un verbo ma non è necessario in questa parte di configurazione diciamo e così come non è necessario ma potrebbe essere una buona idea farlo mettere un'entità su sole in modo da dire che il sole in realtà è una condizione meteorologica in questo caso ovviamente e quindi da quella stessa frase a generare ci sarà il sole o ci sarà la pioggia o ci sarà la nebbia o quant'altro ora di default non esiste una entity che gestisce queste condizioni meteorologiche credo sì però uno potrebbe o crearla o semplicemente lasciare così in questo momento lasciamo così per fare la versione più grezza possibile però si potrebbe e poi aggiungiamo ancora una che tempo fa a Torino dove di nuovo automaticamente riconosce che Torino è una città ecco nella versione inglese spesso non riconosce i nomi italiani di città quindi Torino bisogna scriverlo Turin con la U Milano Milan senza O e Vercelli non c'è una versione inglese diversa da Vercelli quindi se non la riconosce dovete dirgli voi con una città Vercelli rimane Vercelli in inglese quindi con un accento diverso e poi possiamo aggiungerne ecco e poi aggiungiamo un'altra che è che tempo fa e poi aggiungiamo pioverà domani dove domani è una data quindi senza città che ovviamente non va bene nel nostro caso però sono domande lecite no? parliamo del meteo uno potrebbe chiedere che tempo fa e magari vorremmo che lui rispondesse dove oppure che un software decida che prende il GPS e gli da automaticamente qual è il dove qual è il luogo adesso dato che non c'è software coinvolto dobbiamo usare la prima strada che è quella che chiede dove allora quello che dobbiamo fare allora se voi aprite adesso azioni e parametri quello che vedete è che le due entity annotate di prima sono comparsi in questa tabella città e data quindi geocity e date con il loro nome del parametro perché nelle varie frasi loro venivano taggate con queste entiti con un nome di parametro sempre uguale perché in realtà è lo stesso vogliamo che quella sia mappata sulla stessa identica variabile in un certo senso è anche un valore se volessimo quel dollaro geocity se volessimo utilizzare il nome della città fornita in input nella nostra risposta quindi qual è il meteo a Vercelli il meteo a Vercelli è meteo senza dover scrivere ovviamente nelle risposte tutte le possibili città di questo pianeta stessa cosa per la data e poi possiamo dire se questa è una lista quindi in realtà lì ci aspettiamo una lista di nel nostro caso no oppure se sono richieste se sono parametri obbligatori nel nostro caso vogliamo che la città sia un parametro obbligatorio perché qual è il meteo oggi non sappiamo dove quindi abbiamo bisogno obbligatoriamente della città quando voi mettete la spunta su mentre per la data non ci interessa in questo esempio qual è il meteo oggi a Vercelli qual è il meteo domani a Toronto nel nostro esempio stupido lui risponderà sempre allo stesso modo quindi non distinguiamo tra le città ovviamente se dovessimo chiederle poi un servizio meteorologico sarebbe importante sapere anche se oggi o se domani quindi potremmo mettere anche quello come obbligatorio quando voi aggiungete a Required si aggiunge una colonna che si chiama Prompts e vi dice definiscili i Prompts sono domande almeno una domanda che la piattaforma fa per riempire correttamente quella variabile quindi nel nostro caso potremmo chiedere per esempio dove cioè come facciamo a riempire la variabile città chiediamo dove oppure potremmo chiedere in quale città qui è necessario e sufficiente almeno averne uno se noi ne mettiamo più di uno quello che succede è quello che capita per le risposte la piattaforma ne prende a caso uno di questi elenco e quindi una volta vi chiederà dove e la volta dopo magari vi chiederà dove e la terza volta vi chiederà in quale città le prenderà a caso da quest'elenco giusto per dare un po' di variabilità alle risposte dopo che si scrivono e si preme chiudi e quindi poi qui invece di esserci scritto inserisci c'è scritto dove che è la prima risposta e poi tra parentesi due per indicare che ci sono più alternative la stessa cosa succederebbe se noi mettessimo required sulla data dovremmo scrivere quando o in quale data o in quale giorno una cosa così dopo di che allora se noi ci agganciassimo un un software dovremmo andare ignorare la parte risposte e andare in fulfillment e mettere enable webbook for this intent quindi quando riconosci che stiamo parlando di questo intent chiama il webbook che è configurato a livello di agente quindi un agente ha un webbook non importa quanti intent abbia e un intent può chiamare quel webbook oppure no e il webbook ovviamente deve essere in grado di gestire tutte le richieste che gli arrivano per gli intent abilitati adesso questo lo faremo giovedì adesso inseriamo delle risposte allora le risposte possono essere di default quindi per esempio potremmo scrivere ci sarà il sole oppure anche ci sarà il sole a dollaro geo city quindi che tempo farà a vercelli ci sarà il sole a vercelli che tempo farà a milano ci sarà il sole a milano riportiamo il nome corretto della città oppure pioverà a dollaro geo city qui di nuovo è sufficiente una sola risposta se c'è webbook staccato è anche necessaria una sola risposta se no lui non risponde niente se ce ne sono di più semplicemente si prende una delle alternative se voi premete quel più adesso non ci serve lui vi da una serie di altri tipi di risposte per esempio se noi mettiamo telegram gli stiamo dicendo che le risposte di default verranno utilizzate in tutti i casi tranne che per telegram che avrà le sue risposte separate e di più dato che telegram può supportare le risposte testuali ma anche di altro tipo noi possiamo dire che per telegram per esempio manderemo un'immagine come risposta una foto della città con la pioggia quindi la risposta è personalizzata anche in base al tipo di servizio di default e di testo perché è la common base tra tutti ma in base al servizio possono anche esserci diversi tipi di risposte adesso la cancello tanto non abbiamo telegram attaccato a questo punto quando siete soddisfatti di quello che avete fatto si preme salva e qui nell'angolo in basso viene scritto prima intent saved e poi a un certo punto inizia c'è scritto agent training started quindi inizia a fare il training diciamo per la parte machine learning dell'agente con tutti i suoi intent in questo caso ce ne sono tre e a un certo punto ecco compare completed a questo punto si può provare a vedere se la gente funziona come lo proviamo lo proviamo attraverso la chat che c'è qui a fianco questa chat qui a fianco che ha anche un microfono nel caso vogliate fare la parte speech to text ma è una cosa del browser di questa piattaforma non è una cosa che vi portate dietro vi permette di scrivere delle frasi per provare se il vostro intent funziona quindi per esempio e anche eventualmente debuggare il vostro intent quindi per esempio chiediamo una frase di quelle indicate ci sarà il no che tempo fa a Torino che è una delle frasi che abbiamo messo allora premendo invia vedete un po' di dati allora innanzitutto la richiesta che tempo fa Torino e questa è ovvia la risposta pioverà a Torino notate che in questo caso ha riempito la variabile geocity perché la nostra risposta è pioverà a dollaro geocity poi vediamo quale intent ha riconosciuto in questo caso ha riconosciuto l'intent corretto che è chiedimeteo non ha riconosciuto l'intent welcome non ci sono azioni collegate perché l'intent non ne prevede il parametro geocity ha preso come valore Torino quindi è corretto perché in alcuni casi la risposta può sembrare corretta ma nel parametro magari finirci un A Torino allora dato che il parametro è magari quello che viene inviato che serve a un software per chiedere il meteo noi non vogliamo mandare a un API A Torino come nome di città vogliamo mandare solo Torino e poi vediamo che il parametro date che non era obbligatorio è vuoto e in questo diagnostic info compare il JSON che genera quella risposta questo è lo stesso JSON che arriva all'webbook e per esempio in questo JSON c'è la domanda resolved query riga 7 che tempo fa Torino ci sono i parametri riga 11 Torino e l'altro è vuoto e c'è la risposta pioverà a Torino questo è il JSON che deve anche questo è il JSON che il webbook eventuale deve anche creare e restituire perché è quello che PIA che Dialogflow è capace a poi parsificare quindi con un webbook arriverà un JSON simile a questo con solo la richiesta la domanda e poi il software dovrà riempire la risposta in questo caso pioverà a Torino e quando non funziona questo JSON è anche utile perché in fondo c'è uno status che in questo caso che tutto va bene è un 200 codici HTTP con un tipo success ma nel caso in cui ci siano problemi per esempio il webbook non è raggiungibile il server ha dato un errore eccetera qui c'è l'errore che ha generato per esempio il server del webbook e quindi può essere utile per capire che cosa non ha funzionato proviamo in un'altra qual'era la frase che volevamo mettere ok qual'è il meteo domani a Milano che abbiamo città allora lui ha riconosciuto sempre correttamente l'intent e ha anche riconosciuto che domani è una data ed è il 16 maggio 2018 questa è la parte di training della gente che viene fatto prima che riconosce che comunque c'è una variante della frase con la data e la città e quindi anche se non è la stessa comunque funziona e se noi per esempio chiedessimo ci sarà la nebbia a a a Vercelli che mi sembra un po' sadatto alla nebbia allora vedete che in questo caso non trova la città e questa è una frase che noi non abbiamo non abbiamo il concetto di nebbia e abbiamo solo ci sarà il sole e non c'è il luogo non c'è il giorno non c'è domani c'è Vercelli che però in questo caso non riesce a riconoscere come città forse perché è una frase troppo diversa dalle altre però riconosce che di questo intent che stiamo parlando del meteo e quindi chiede dove come se mancasse il parametro quindi proviamo a scrivere Vercelli e a questo punto ha riconosciuto correttamente Vercelli e viene scritto pioverà Vercelli e se volessimo gestire anche quel caso in maniera corretta potremmo aggiungere tra le frasi di training una cosa simile a ci sarà la nebbia domani a città o anche senza domani ecco proviamo a vedere un attimo con calma il dove con una frase però corretta quindi che tempo fa senza città senza data allora noi vediamo che l'intent è quello giusto la risposta è quella che ci attendiamo dove e lui vedete anche giusto per farvi vedere definisce in questo caso tre contesti implicitamente definisce tre contesti per tener traccia del fatto che stava parlando del meteo e quindi che la risposta a Vercelli va collegata al pezzo di conversazione che stava avendo prima questo lo fai in automatico quindi crea questi contesti al volo e poi li cancella anche al volo subito dopo ma se vuoi invece di mettere una città scrivete per esempio oggi che non è una città lui continua a chiedervi dove perché gli serve quel parametro obbligatorio e quindi continua a mantenere questi contesti attivi per ricordarsi che sempre la richiesta arrivava dal meteo e non è una nuova richiesta che va su un altro intent e quindi se noi a questo punto mettiamo New York lui ci risponderà pioverà a New York e ovviamente essendo arrivato in fondo perderà i contesti che gli servivano per mantenersi nella conversazione se noi scriviamo dei caratteri a caso giustamente lui va nel default fallback intent e ci risponde una roba a caso non ho sentito bene puoi ripetere non prende l'intent del meteo se gli chiediamo un qualcosa di più realistico di una serie di caratteri un qualcosa di diverso da ciao che ora è? lui ci risponde non ti ho sentito bene puoi ripetere che è la risposta di default avessimo un intent per gestire il tempo il tempo orario e non il tempo meteorologico risponderebbe auspicabilmente con quell'intent correttamente se gli scriviamo ciao dovrebbe andare nell'intent di no se nell'intent di welcome e gli diciamo e gli diciamo che ovviamente può accettare non solo eventi di welcome ma anche frasi tipo ciao buongiorno buonasera buona giornata eccetera e poi scriviamo ciao lui ci risponde con un con l'intent di welcome di default e ci risponde buongiorno che è una delle risposte di default in questo caso vedete che l'intent ha anche un action associata input punto welcome nel caso in cui interessi a un software tipicamente prendere questo specificazione perché ci sono le azioni non basta il nome dell'intent perché il nome dell'intent come vedete è libero può avere degli spazi può avere dei caratteri speciali e quant'altro il nome dell'azione è invece più simile a un nome di una variabile un nome di un metodo un qualcosa di più piccolo e riutilizzabile in un software che non fa riparsing di una stringa o lunga piacere perché il nome dell'intent può anche essere chiedi il meteo a qualcuno in italiano l'azione può essere meteo trattino italiano o trattino it dopodiché tra l'ultimissima cosa tra gli aspetti avanzati che noi non useremo esplicitamente ci sono questi se voi evidenziate mettete il mouse su uno degli intent su uno qualunque degli intent vi permette di cancellarli e anche di aggiungere degli intent di follow up quindi dei figli di quell'intent per creare appunto conversazioni e anche poi di dire che questo intent è la fine della conversazione che è un modo alternativo e molto più specifico rispetto ai contesti che invece possono passare variabili anche tra intent che di per sé non sono collegati tra un intent di buongiorno come ti chiami all'intent del calendario che non c'entra niente quel buongiorno come ti chiami ma magari uno vuole mantenere il nome della persona che sta scrivendo per ogni azione che fa quindi il meteo a Vercelli sarà questo virgola nome della persona e ho aggiunto l'evento al calendario per dopodomani virgola nome della persona per renderlo più personalizzato per esempio quindi il follow up intent invece per creare intent in cascata collegati tra di loro ok quindi questo come dicevo conclude la seconda parte di oggi che è quella sugli assistenti conversazionali adesso potete nella mezz'ora che manca lavorare un po' su Raspberry o ancora provare un po' Dialogflow come volete i Raspberry sono qui ogni gruppo si ricorderà spero il numero del Raspberry che aveva e può venire a prendere il suo Raspberry